Lavoro in Alleanza da quattro anni. Un amico, oggi un collega, mi ha dato l'opportunità di conoscere questa meravigliosa realtà ed oggi è forte dentro di me il senso di appartenenza, l'orgoglio di sentirmi parte di un team vincente. Alleanza ti offre gratificazioni economiche e soprattutto opportunità di crescita professionale che hanno come unico limite la tua volontà. Se vuoi lavorare in una grande azienda che riconosce il tuo merito e il tuo talento, Alleanza fa per te. Vieni a lavorare con noi.